Tommaso Campagni esterno del San Secondo è arrivata questa bella vittoria nel derby di domenica, una vittoria che ci voleva. Si, ci voleva perché sicuramente venivamo da un mese di ottobre dove i risultati ottenuti non andavano di pari passo con le prestazioni che avevamo fatto. Sicuramente avevamo alternato prestazioni buone nel primo tempo, nel secondo, però le nostre prestazioni erano molto altalenanti e siamo partiti bene con la vittoria con la mano del latte a novembre e speriamo di continuare bene nonostante il campionato sia difficile. Anche se credo che sia equilibrato perché a parte una squadra come il Valfabbrica che secondo me può avere delle individualità migliori rispetto alle altre squadre, il campionato è molto equilibrato. Lo stesso Ponte Patro che comunque sia non ha individualità importanti e riesce a essere lì davanti, quindi credo che sia un campionato equilibrato e possiamo giocarsela. Come valutti la vostra classifica attuale? Sicuramente non è andata bene perché i risultati potevamo avere qualche punto in più, il nostro è un campionato difficile nel senso che il nostro obiettivo è sicuramente fare prima i possibili punti per poter salvarci, poi pensare a vedere a febbraio-marzo a che punto siamo arrivati e valutare poi. Domenica prossima gara molto difficile sul campo della San Marco Juventina che sta andando forte nonostante l'ultima sconfitta, voi tra l'altro fuori casa siete ancora secco di vittori. Le squadre del Perugino sono sempre attrezzate, in questi campionati li fanno sempre alla grande. Noi fuori casa non andiamo bene, in casa infatti abbiamo costruito i punti che fino ad ora abbiamo ottenuto, speriamo di andare là e fare una bella prestazione cercando di portare punti importanti per il nostro campionato e vedremo un po'. A livello personale come sta andando? Sta andando bene, sono contento, sono ben visto dalla squadra, dal mister, mi trovo bene, siamo un bel gruppo, siamo giovani quindi anche i risultati che otteniamo dipendono molto dalla nostra giovanità perché comunque sia una squadra giovane si esalta e si demoralizza facilmente con i risultati, speriamo di crescere da questo punto di vista e fare un buon campionato.